scuola ciao a tutti ragazzi oggi siamo qui su un nuovo episodio di Serious Sam e mi sto portando dietro una bambina che non serve un cazzo eh cos'è? scudi scudi e riscudi mi scudi di tutto nooo mi hai chiuso la parte in faccia cerca di risolverla alla svetta perchè qua c'è arrivo due cose enormi e quando dico due cose enormi voglio dire davvero enormi hopla wow hopla mancato mi ha dato l'arma oh ah non lo so mi ha dato qualcosa ma non ah mi ha dato si mi ha dato la superpotenza per un minuto bravo oh dove sono i mongolotti eccoli là io mi occupo di quei giganti di quelli giganti vabbè vabbè ok io ho scoperto ho finito ho finito ho finito potevo essere potente lo sono stato vai entra ah non è che entrano anche loro no ok questo è ancora più difficile prendi tu la potenza si è ancora più difficile però ti avverto lo vedo dalle bombe che mi lanciano questo è ancora più difficile non lo vedo dalle armi che mi sta dando extra life mi le prendo tutto io è l'extra life non c'è ma non c'è il punto è il punto il punto è il punto è Ripeto io con il programmatore Che ha fatto questo gioco Si è divertito a cliccare tante volte Per far spawnare ammostri A caso Mi sembro io quando in Minecraft Vi spawno tutti quei demoni Gli scheletrini nell'arena Ui un cazzo ui Tutti qui Tutti questi pagliacci esplosivi Tutti qua Guarda guarda quanti Guarda le roba Cazzo corre Si ma avete finito Basta Quasi Dietro Li vedo Li vedo Anche qua E a le baracca Ti sono ancora Si no Vieni con me Vieni con me C'è uno là Trepa C'è un altro Ok Direi che anche questo episodio Può finire qui Vieni con questo Vieni Cosa No basta E' troppo lungo No aspetta Ti puoi dire una cosa Ah di qua Che cazzo è E' polo ninja Ciao a tutti Ci dai soldi Dammi i soldi Ah 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 Grazie per la visione!